I sindaci dell'Agro Sarnese al fianco dei cittadini che da giorni si lamentano dell'aria irrespirabile e maleodorante e disagi attribuiti presumibilmente ai miasmi provenienti dall'impianto biogas operante in località Foce. Questa mattina nella sala consigliare del municipio di Sarno, un summit al quale hanno partecipato il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Palma Campania, Striano e Poggio Marino. Al termine dell'incontro la sottoscrizione di un documento unitario con il quale si chiede alle autorità competenti di eseguire ulteriori monitoraggi sui sistemi di produzione dell'impianto biogas. Siamo qui proprio oggi per risolvere questo problema insieme agli altri sindaci, gli altri assessori, gli altri comuni limitrofi che hanno lo stesso problema nostro. Vi sono delle zone specifiche del nostro territorio in cui l'odore effettivamente è abbastanza forte e costringe i cittadini soprattutto in questo periodo a stare un po' chiusi in casa e questa non è certamente una delle soluzioni migliori. La presenza di quattro sindaci di due province, la provincia di Salerno e la città metropolitana di Napoli, significa che questo impianto incomincia effettivamente a dare un enorme fastidio. L'incontro di stamattina è rivolto a mettere in atto altre strategie che riguardano la salute dei nostri cittadini. L'azienda di Foce però non ci sta, rispedisce al mittente le accuse di inquinamento e consente alle nostre telecamere di entrare all'interno dell'impianto per mostrare il totale rispetto del sistema di produzione alle normative in materia ambientale. L'impianto produce energia elettrica tramite quella che è la fermentazione anaerobica che avviene all'interno di questi silos che sono nelle nostre spalle. Quindi non c'è alcuna fuoriuscita di gas, non c'è alcun inquinamento ambientale ma semplicemente c'è questo deposito di questo materiale agroalimentare.